L'altro giorno Facebook mi ha ricordato una foto in cui suonavo, stavo con la chitarra, stavo sul palco e niente, mi divertivo. Ho iniziato a suonare che avevo dieci anni, ho iniziato con lo studio di armonia e composizione a suonare la chitarra, che poi è diventata chitarra elettrica. Abbiamo fondato questa band, abbiamo iniziato a suonare, siamo andati sotto etichetta, abbiamo iniziato a fare i nostri giretti per l'Italia e pensavo a quanto questo percorso, questo mondo che ha caratterizzato la mia vita per diversi anni mi avesse lasciato. Quanto di quello che mi ha lasciato avessi poi portato in quest'altra avventura, in quest'altra passione che è il fitness. Quindi mi andava di condividere in maniera molto spiccia tre lezioni che la musica ha dato a me, che poi mi sono portato dietro anche qua, nel fitness. La prima lezione è che le cose hanno un senso solo nel momento in cui le provo. Io mi ricordo che mi trovavo a scrivere spartiti, a lavorare con spartiti, a confrontare questi spartiti con gli altri componenti del gruppo. E quando mi trovavo qualcosa che non era di mano mia, sotto gli occhi, per lì mi sembrava non cogliere un senso. Delle note che non ci stavano, un'armonizzazione che non andava bene, qualcosa che non c'era. Però quando mi mettevo poi a trasporre tutto quanto al computer, perché romanticismo a parte ragazzi, ho fatto adesso tutto quanto al computer. Quando riportavo tutti questi spartiti al computer, ne capivo realmente la logica. Ma quella nota sta là perché c'ha questo valore, quello è un pedale, quindi ho capito adesso il senso che c'ha, ma creare questa armonizzazione che scorreva. Nel fitness è stessa cosa. Leggi una scheda, non ne capisci il senso, non capisci perché c'è quel determinato esercizio. Non vai realmente a cogliere quello che c'è dietro, ma quando vai là, in sala, la prova, magari con chi ha ideato la scheda, con un preparatore. Allora cavolo, quel cacchio di reumatore sta là per quel motivo. Allora sì che lo vado a fare, sì che lo vado a fare in questo modo. E questo caratterizza anche ovviamente come vai a fare gli esercizi, perché se un esercizio è una preattivazione, piuttosto che un preparaticamento, piuttosto che un esercizio all out, sinergico, via discorrendo, se ha un determinato ruolo lo vai a fare con uno spirito diverso. Per odiare questa cosa noi andiamo a specificare esattamente nel dettaglio in maniera molto romanzata ogni esercizio che funziona, come farlo, come approcciarsi, come fare un warm up. Insomma, lo schede chilometriche, quelle che diamo, però credo un qualcosa su cui valga da pena riflettere. Seconda lezione è che il bello arriva quando abbatti tutti i limiti. La musica, lo sappiamo tutti, esistono tantissimi generi, dalla musica house, quella elettronica, la classica, il jazz, piuttosto che quella metal, il metal al coro dove stavo, e ci sono sottogenere e sottogenere di sottogenere. Ora, quello che si sta facendo ultimamente nella musica è abbattere tutti questi generi, questi sottogenere e cercare un po' un compromesso, cercare un collegamento. Quindi si trovano tutti questi filoni di progressive, progressive metal core, progressive death core, progressive metal, e via discorrendo, che quando vai a vedere la struttura armonica magari stai sentendo metal core, ma poi di fatto in realtà è musica classica. Questo è, cioè, vedi le varie chitarre, in realtà sono un quartetto dark, c'è la viola e il violoncello, e là veramente se ne vedono delle belle. D'altro canto, nel bodybuilding è quello che si sta facendo negli ultimi anni, nel senso che non esiste più il range ipertrofia che è solo quello, non esiste più il prepararsi a zero carbo, si stanno abbattendo tutti questi limiti. Anche il discorso crossfit, bodybuilding, powerlifting, ci sono tutta una serie di metodologie che sono incanalate tra loro, alcune che si fanno da anni e anni, ma che non si sono codificate realmente, se no negli ultimi anni, in cui si parla, in cui si va a smanettare un po' di più. Quindi abbattendo i limiti, riusciamo a capire il collegamento, riusciamo a capire che stiamo parlando della stessa cosa che è attività fisica, ogni pratica, ogni metodologia, ogni allenamento ha un senso, può essere ben contestualizzato, e alla fine può avere un ruolo cruciale e anche determinante nel processo di ricomposizione corporea. Quindi, sostanzialmente, nel diventare grossi e tirati. Infine, terza lezione che mi ha insegnato la musica, molto importante, è che tutto quanto funziona. Ci sono tantissime regole, veramente tante nella musica, una cosa infinita. Pian piano che vai avanti, regole che abbattono le regole. Immagino se Mozart, un periodo in cui era tutto fatto a scale, belle precise, belle linde, ci mettessero a sentire il jazz, cioè un qualcosa che le scale le prende, butta in un secchio, ci gioca, ci rigioca, con un pallone e la cattoccia. Impazzirebbe, probabilmente, no. Follia, si divolterebbe nella tomba. O si pensi alla musica dodica fonica. Una cosa inascoltabile per i più. Sostanzialmente, si prendono le note, si mettono in un determinato ordine, a caso che ti inventi, e si fa una armonizzazione rispettando quest'ordine. Il problema è che si prendono tutte le note, cioè, dalla prima all'ultima. Quindi viene apparentemente qualcosa che è veramente tosto da mandare giù. Però, quando ne capisci la struttura, quando ne vedi quello che c'è sotto, allora la realizzi la bellezza di questa composizione. E nel fitness è questo, di base. Tutto funziona. Parliamo di chetogenica, parliamo di high cards, parliamo di path, parliamo di heavy duty, di allenamento giro, di alta intensità, di T. Quello che vi pare, esiste di tutto. Ma tutto funziona. Funziona quando è fatto con logica, quando è ben contestualizzato. Quindi l'allenamento ad alta densità può funzionare? Sì, funziona. Se lo fai con logica, funziona. Una chetogenica è una strategia che funziona? Sì che funziona. Si usa, la usa, non sono deficienti quella che la usano. Funziona. Basta che la contestualizzi bene e la fai con logica. Like Arts, tanto attaccata, tanto modaiola, quanto ti pare, funziona. La fai con logica? Funziona. Devi avere un amputato, soffri la fame come un maiale, però funziona di base. E così tutto quanto. Bisogna capire la logica che c'è dietro ad ogni cosa e capendone realmente la logica allora si può far tutto. Puoi veramente far tutto. Infine, un altro discorso. Un'altra cosa che in realtà non mi ha insegnato tanto la musica ma l'assenza della musica. Perché poi con il gruppo c'è stata una chiusura abbastanza netta, abbastanza brusca, diciamo. E io in quel periodo, mi ricordo, non riuscivo a concepire la mia vita senza gruppo, senza musica, senza questo progetto, questa carriera. Durante la settimana avevo la mia università, avevo le mie ore come istruttore in sala pesi, però il grosso lo passavo chiuso in studio a mangiare burrito. Mi ricordo. Però di base era quello il mio fulcro. La mia vita stavo là a comporre, a registrare, a comporre, a registrare, a comporre, a registrare, eccetera. E quando è tutto finito c'è stato un grande buco per me, un buco che ho anche sofferto molto, però che mi ha lasciato tanto adesso a ripensarci. Poi sembra tanto uomo navigato, insomma, parliamo di un ragazzo di 24 anni. Però credo che sia importante riflettere su questo. Un buco che per fortuna ho potuto colmare con questa passione del fitness, col fatto che avevo un percorso universitario ancora in piedi, che stava andando bene, quindi le altre cose le avevo. E vedo persone che al fitness dedicano veramente molto, molto di più. La totalità della loro vita, sacrificano gli impegni, il lavoro, gli aspetti sociali, le vacanze, più o meno tutto quanto per alimentazione, allenamento e integrazione. Tre cose che ti prendono tutta quanta la vita, sostanzialmente, della ruba. Per quanta passione, e io sono il primo a dirlo, il primo a sostenerlo, il primo a viverlo, ti possano portare queste tre cose, molto semplici. Quindi concludo con una frase che lessi, mi spiace non ricordare chi la scrisse, perché non la lessi così, non mi ricordo sicuramente dove, non mi ricordo sicuramente, mi è rimasta impresso, perché credo che rappresenti esattamente questo. Vivete ogni cosa al massimo, senza farne la vostra totalità. Perché è lì che essa, vi darà il meglio di lei.